E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi andremo a vedere una nuovissima casa su Minecraft Spero tantissimo che vi piaccia Se arriviamo a 700 mi piace entro mezzanotte Avrete il loro della mappa in descrizione Vi invito anche ad iscrivervi al canale se ancora non mi siete iscritti E detto questo possiamo iniziare subito Beep beep Amo ship Se beep beep Amo ship Beep beep Amo ship Se beep Amo ship Perfetto ragazzi ed eccoci qui Questa qui è la casa che oggi andremo a vedere insieme E' molto grande Sembra proprio tipo una casa realistica Per la grandezza E soprattutto anche per il design Per il tipo di costruzione Sembra proprio una casa vera E mi piace parecchio Certo fuori è un pochettino spoglio Come vedete il prato è completamente vuoto Però questo non vi è da voi di scaricare la mappa E di addornarla a vostro piacimento Comunque detto questo Vi direi adesso possiamo entrare subito al suo interno Questo qui ragazzi è l'ingresso della casa Per entrare al suo interno e andare in questo punto Guardate qui c'è scritto che Il trattino vuol dire su e lo zero vuol dire giù Quindi su, giù, su, giù, giù Ecco qui che la porta si apre all'istante Perfetto posso entrare all'interno della casa Già vi dico che l'unico difetto di questa casa è che secondo me è troppo buia Però intanto non ne possiamo accendere la luce Naturalmente può essere colpa della shaders che sto utilizzando adesso Però comunque dai non è così buia Basta mettere qualche torcio o qualche altra decorazione in più Perché comunque la casa è abbastanza spoglia all'interno Per illuminarla per bene Detto questo possiamo passare subito nella prima stanza Che penso sia la stanza da pranzo Vedete qui abbiamo diverse sedie fatte in questo modo Che non l'avevo mai viste fatte in questo modo Ma mi piace abbastanza E qui un taulinetto Poi abbiamo invece qua ragazzi Intanto accendiamo come sempre la luce E abbiamo qui due polli Abbiamo Bertie the chicken E Frederick the chicken Sì sto usando una texture diversa Strana Andiamo intanto da questa parte Premendo il bottone apriremo quest'altra porta Sempre in redstone Che è molto figo come funziona Abbiamo questa piccola libreria Dove tirando questa leva azioneremo il sistema Per far comparire le due poltrone e il tavolino Andando per di qua invece abbiamo ragazzi il bagno Tiriamo la leva per accendere naturalmente la luce Chiudiamo la porta E qui abbiamo noi una vasca da bagno Funzionante come potete vedere Basta ritirare di nuovo la leva E possiamo attivare o disattivare l'acqua a nostro piacimento Qui invece noi abbiamo un cesso che è funzionante Non dobbiamo buttare gli oggetti sopra Ma dobbiamo fare tasto destro nell'hopper Mettere l'oggetto al suo interno E poi tirare questa leva E come vedete l'oggetto scomperirà E poi verrà distrutto Usciamo dal bagno E andiamo in quest'altra stanza Che è già illuminata Come potete vedere Andando per di qua E tirando la leva Abbiamo l'ingresso per il nostro garage Qui abbiamo ad esempio dei banchi da lavoro Dove possiamo sistemare tutti gli oggetti che ne vogliamo E qui dentro ragazzi Abbiamo il nostro garage Dove abbiamo un paio di cose abbastanza carine Come ad esempio questo sistema per alzare la nostra macchina In modo che possiamo aggiustarla in caso si rompa E ripremendo questo bottone possiamo abbassare questo sistema Mentre premendo questo bottone Apriremo il garage Come potete vedere si va ad aprire completamente Noi possiamo poi uscire in caso con la nostra macchina E tornando dentro E ripremendo il bottone Andremo a richiudere Qui invece abbiamo la porta Che ci porterà nella parte posteriore della casa Ma che vedremo dopo Ritorniamo qui Premiamo il bottone Ed entriamo all'interno della stanza della musica Accendiamo di nuovo le luci E come vedete qui abbiamo diverse cose Questo qui dovrebbe essere la sottospecie di microfono Come si è scritto nel cartello Questo qui dovrebbe essere le casse E questo qui una chitarra Ma veramente non ci assomiglia a una chitarra E questo qui invece dovrebbe essere la batteria Tant'è che funziona pure Basta ci mettiamo qui E come vedete I piatti cominciano a fare su e giù Come se li stessimo suonando Veramente simpatica come cosa Possiamo tornare indietro Ripremere il bottone per chiudere la porta E saliamo adesso al piano di sopra della libreria Dove abbiamo anche le stanze da letto Andiamo prima di tutto In questo punto Dove abbiamo un sistema automatico Per fare le pozioni Non l'ho mai visto un sistema così Ma suppongo che funzioni in questo modo Prendiamo una bottiglietta d'acqua Sì è una Mountain Dew Non fate domande Andiamo a riempire La buttiamo qua dentro E poi dovremmo buttare tutti gli altri ingredienti Non so Possiamo prendere Una verruga del Nether La buttiamo qua dentro Premiamo il bottone E in questo modo dovremmo riuscire a fare Le pozioni di base Ora non so se funziona Facciamo un giro della casa Intanto e vediamo se dopo Avremo qui le pozioni di base Questa qui è la nostra stanza da letto Dove Qui in fondo abbiamo la leva Per accendere appunto Le luci della nostra camera da letto E qui anche il bottone Per accendere la nostra televisione Quale infatti si va ad accendere Tant'è che se andiamo a spegnere la luce Della camera da letto La TV sembra proprio accesa Adesso vabbè Possiamo anche spegnerla Perfetto Qui invece abbiamo Un sistema che ci permette Di cambiare le armature Basta prendendo questo bottone Abbiamo un altro tipo di armatura Sì questa qui è l'armatura Troll ragazzi È grazie alla texture pack Che sto utilizzando Ma in realtà È un'armatura in diamante Quindi non fate domande Come vi ho detto all'inizio Mi sono stato scordato Di levare la texture pack Ripeniamo il bottone E abbiamo qui invece L'armatura in chainmail E adesso di nuovo Quella in iron Chiudiamo la porta E andiamo avanti Qui abbiamo la leva Che ci permette di accendere E spegne tutte le luci Dei corridoi Mentre qua dentro Abbiamo una specie Di armadio Dove possiamo mettere Tutti i nostri vestiti Qui abbiamo invece Un altro bagno Come potete vedere Dove abbiamo anche Una doccia Basta ci mettiamo qua dentro Tiriamo la leva Così E la doccia Si andrà ad attivare Possiamo adesso Rispegnerla In questo modo E possiamo di nuovo uscire Qui abbiamo due lavandini Qui invece ragazzi Abbiamo Jeffrey Ovvero il nostro cagnolino Che in questo set Sul pack Sembra un doge Attiviamo questa leva Per accendere di nuovo Le luci Qui abbiamo Un'altra camera da letto Con una cesta Un anvil E appunto Un letto E qui invece Abbiamo un'altra camera da letto Che noi possiamo Addornare Come meglio crediamo Andando invece Per di qua Ritorniamo ragazzi Al punto di prima Ovvero Nelle scalinate Che ci fanno scendere Di nuovo Nella libreria Andiamo qui Chiudiamo Questa porta Premiamo questo bottone Per aprire invece La porta Della cucina Accendiamo come sempre Le luci Tirando questa leva Faremo comparire Queste sedie Tirando questa leva Possiamo far apparire L'acqua Dentro questo lavandino Mentre tirando Quest'altra leva Possiamo prendere qui Il carbone E mettendo Non so qua dentro Della carne Di qualsiasi tipo Possiamo farla cucinare E l'output Andrà a finire All'interno di questa cesta Come potete vedere Qui invece abbiamo Sotto specie di frigorifero Dove premendo questo bottone Riceveremo Una torta Eccola qua Una bottita d'acqua Del ghiaccio E non so perché Un cavolo Però va bene Ok Andiamo nell'ultima stanza Da nostra casa Tiriamo la leva Per accendere la luce Ed ecco qui che abbiamo Questo piccolo salottino Dove premendo il bottoncino Apriremo la porta Che ci farà ritornare Dell'entrata principale Della nostra casetta Per un attimo Torniamo indietro Andiamo vicino A questo camino Premendo questo bottone Apriremo il passaggio segreto Che c'è Al suo interno Quello di cui abbiamo Tutti i dischi musicali E qui Un jukebox Adesso possiamo anche Uscire di nuovo dal camino Ripremere il bottone Si andrà a richiudere Il passaggio segreto E si andrà a riaccendere Possiamo adesso un attimo Andare nella parte Postulare Della nostra casa Premendo questo bottone Si aprirà appunto Quest'altra porta Dove abbiamo tre sistemi Il resto sono differenti Il primo è un semplicissimo Trampolino Che basta attivarlo Ci mettiamo qua sopra E con l'idea Dovrebbe farci saltare Si guardate ragazzi Funziona abbastanza bene Veramente funziona E' fichissimo ragazzi E' troppo bello Dove farlo anche La mia serie Di minecraft vanilla Possiamo adesso Disattivarlo Qui invece abbiamo Un sistema di fuga Nel caso qualcuno Inrompa all'interno La nostra casa O ci vuole Dalla calcia Ci vuole inseguire Basta entriamo qua dentro E dobbiamo subito Correre sopra Questo slime block Come vedete Ci farà uscire Fuori dalla nostra casetta E' un sistema di fuga Abbastanza semplice Ma secondo me E' molto efficace Per scappare Guardate riproviamolo C'è è fichissimo E infine andiamo In questo altro punto Dove abbiamo questo gioco Con l'arco Prendiamo arco e freccia Andiamo dietro questa struttura Tiriamo la leva E il mini gioco Si avvierà Come vedete C'è questo blocco Che fa sale e scende In modo completamente Randomico E se andiamo a beccare la barca Faremo cadere l'omino All'interno di questo contenitore D'acqua Più o meno come un gioco Di un parco divertimento In stile americano Quindi teniamo il nostro arco E cerchiamo Di beccare il momento esatto Adesso Ragazzi siamo riusciti Il primo colpo Incredibile Ecco qui che l'omino E' caduto all'interno Di questa piccola vasca d'acqua Molto simpatico Come giochino Infine Torniamo Nell'entrata principale Nella nostra casetta E chiudiamo La porta Della casa In questo modo E andiamo a destra Dove abbiamo l'entrata Per il nostro piccolo Bunker segreto Abbassiamo queste leve E verremo Teletrasportati All'interno di questa stanza Dove premendo questo bottone Torneremo indietro Nella nostra casetta Mentre Abbassando queste leve Apriremo La porta segreta Che ci farà entrare Nel nostro bunker Qui abbiamo Un sistema di sicurezza Che adesso vi mostrerò Se noi oltrepassiamo Questa zona Come vedete Cadremo all'interno Di questa trappola Di lava Rompiamo il blocco Per uscire Per disattivarlo Basta che appunto Abbassiamo queste leve In questo modo E come vedete Adesso I laser Si andranno a disattivare E il passaggio E il passaggio È sicuro Ed eccoci qui ragazzi Questo qui è il nostro bunker Pieno di nutelle Questa vedete qui abbiamo Delle nutelle Infatti è pieno di nutella Guardate quante nutella Qua abbiamo tantissimi diamanti Tantissimi smeraldi Altra nutella Tantissimo oro E qui abbiamo Le nostre formule Per un lancio nucleare Dove però Stranamente c'è scritto Che è 1 più 1 uguale a 3 Però va bene Ok Infine Possiamo tornare indietro Riattiviamo Il sistema di sicurezza Chiudiamo Il passaggio segreto E torniamo Nell'ingresso Della nostra casetta Quindi ragazzi Spontentissimo Questa casa su minecraft Se vi sia piaciuto Vi ricordo che Se superiamo i 700 mi piace Entro mezzanotte Avrete in descrizione Il download di questa mappa Invito come sempre A passare in tutti i miei social Soprattutto sul mio canale Di telegram Ed iscrivervi al canale Se non vi siete iscritti Volendo potete cliccare Nell'avatar Che sta qui Al centro dello schermo Per iscrivervi al canale E se ce l'avete fatto Potete cliccare a sinistra O a destra Per vedere un altro mio video Detto questo ragazzi Questa casa su minecraft Finisce qui E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti